La nostra cooperativa, pur essendo la più grande del Paese, è nata da un anno, è nata dalla fusione di tre cooperative, stiamo varando adesso il primo piano strategico della cooperativa. Il piano strategico è un unicum fra gli obiettivi imprenditoriali e gli obiettivi di sostenibilità dell'azienda e abbiamo voluto definire, riprendendo i 17 temi dell'agenda ONU 2030, la declinazione di questi obiettivi all'interno del nostro piano. Ci siamo concentrati sui tre punti che a nostro parere possono trovare una traduzione pratica in chiave di obiettivi legibili che sono l'equa distribuzione delle risorse, la produzione e il consumo sostenibile e la generazione di opportunità. Il nostro piano prevede la possibilità di investire in diverse attività che non sono solo l'alimentazione, che non sono solo la sostenibilità del cibo, ma sono quei bisogni che oggi un utente, una famiglia, un socio della cooperativa tende a manifestare in modo prevalente, penso a tutti i consumi domestici, penso a tutto l'ambito dell'energia, penso a tutto l'ambito dell'energia ad uso domestico e ad uso industriale. Il progetto Tipici di Gusto nasce ormai tre anni fa, questa è la terza annualità, dall'idea di costruire insieme alle scuole e insieme ai giovani un'attività che fosse di scambio reale con le imprese, perché danno l'occasione proprio ai soggetti che sono presenti sul territorio e hanno una responsabilità sociale rispetto alla loro attività economica ed impresa, soprattutto noi come cooperativa, di lavorare insieme alle giovani generazioni e costruire con loro qualche opportunità in più per il futuro. E quindi l'idea è proprio quella di dare protagonismo ai ragazzi, protagonismo alla scuola, fargli vivere esperienze che consentono loro di sviluppare competenze trasversali, di cittadinanza legate alle nuove tecnologie, ma trasferendo prima loro delle competenze molto concrete. Sono i nostri professionisti che spesso vanno in aula, sono i nostri colleghi di cooperativa che fanno delle attività particolari che consentono in questo caso ai ragazzi di vedere come nella pratica concretamente si possono applicare. I risultati sono sotto gli occhi di tutti perché? Perché nel sito dedicato a tipici di gusto vediamo i prodotti realizzati interamente, integralmente dai ragazzi e allo stesso tempo tutti quei risultati sono poi stati trasferiti anche in punto vendita ai soci perché si sono realizzati moltissimi eventi sul territorio dove i ragazzi sono stati protagonisti. Nel futuro abbiamo sviluppato dei moduli che pensano a una continuità e a un arco temporale triennale e consentono a questo progetto di diventare a tutti gli effetti un'occasione di alternanza scuola-lavoro. Grazie a tutti!